Buongiorno, benvenuti e iniziamo la giornata di studio che da un certo punto di vista, come sanno molte delle persone qui, è l'ultima sessione del seminario che si è svolto nei giorni di giovedì e venerdì, seminario curato da Neville Rowley, seminario che quest'anno il mestiere del conoscitore è stato dedicato a Wagen e Eastlake, cioè a una stagione su cui c'è molta attenzione da parte degli studi, ma meno conosciuta, come a tutti i a livello generale, da Lanzi a Morelli e Cavalcasselle, è una stagione su cui forse mi pare che si sia anche dimostrato in questi giorni, ci sono moltissime ricerche, ma stiamo mettendo a fuoco tante cose, anche perché abbiamo visto come entrino in gioco moltissimi elementi dalla dalla storia del collezionismo, al formarsi dei musei, all'apparire della fotografia, al rapporto con gli artisti contemporanei. La giornata di oggi, tanto devo dire, purtroppo abbiamo un'assenza, noi prevedevamo anche oggi l'intervento di Mauro Natale, ma Mauro Natale ha un'indisposizione a, diciamo che si possa dire, una forma molto leggera di Covid e per questa ragione non si può spostare, è a casa e quindi non può venire qui, quindi non avremo Mauro Natale, ma avremo soltanto, ma non soltanto, Donata Levi nei virroli. E cominciamo con Donata Levi, io sono molto felice, molto onorato che Donata Levi sia qui con noi, tutti voi la conoscete, credo che è proprio stata un'iniziatrice di questi studi, penso dal libro su Cavalcaselle, fondamentale libro in Audi su Cavalcaselle della fine degli anni Ottanta, ma poi ha continuato con ricerche proprio su questi personaggi, appunto da Cavalcaselle stesso a Raskin, le grandi mostre, la storia del mercato, il passaggio dall'incisione alla fotografia e quindi davvero è un personaggio che è stato centrale in questi studi. Donata Levi insegna all'Università di Udine e oggi appunto il titolo del suo intervento è Da strumenti a palinsesti, i cataloghi postillati di un conoscitore dell'Ottocento. Grazie molto per questa presentazione, sono io a essere onorata di essere qui di fronte a un pubblico così importante anche di fronte a tanti studiosi, giovani studiosi che stanno conducendo o stanno concludendo ricerche su questi temi come abbiamo sentito nella prima giornata. Io ho cercato sempre per tutta la mia carriera di divorziare da Cavalcaselle dopo il libro, non ci sono praticamente mai riuscita, vi racconto solo un aneddoto così, dopo la pubblicazione del libro Enrico Castelnuovo mi disse, beh hai trovato la strada maestra, potrai per tutta la vita scrivere articoli, Cavalcaselle è, Cavalcaselle è. Ecco in quel momento ho deciso che avrei dovuto divorziare da Cavalcaselle, ho tentato di farlo ma via via torna perché è certamente un personaggio estremamente importante e anche molto suggestivo in qualche maniera ed è di lui il conoscitore del titolo appunto ovviamente. Parlerò appunto di cataloghi, di musei, di collezioni, di esposizioni, di aste e di vendite postillati da Cavalcaselle è presente nella sua biblioteca conservata insieme alle sue carte nel fondo della biblioteca marciana di Venezia. Certamente l'interesse per le postille è da sempre vivo in campo letterario, in campo filologico, nel campo della storia della critica d'arte ha visto di recente un rinnovato interesse con vari studi sulle postille a Vasari, le postille a Baglione eccetera. Va segnalato che le postille sono però neglette generalmente per esempio nella catalogazione ufficiale, nella catalogazione ufficiale dei testi moderni. Il sistema bibliotecario nazionale italiano per esempio non prevede un campo specifico ma solo la segnalazione generica dell'esistenza di segni o postille. Mentre questo il discorso sulle postille mi sembra particolarmente importante soprattutto per le biblioteche d'autore, tant'è che quando da un paio d'anni abbiamo cominciato a catalogare tramite SBN la biblioteca di Paola Barocchi conservata appunto presso la fondazione Memofonte, i cui volumi sono ricchi di postille e dediche ma anche di materiali vari, biglietti, appunti, lettere, pubblicità editoriali, abbiamo pensato di creare uno strumento ad hoc in modo da schedare queste informazioni fondamentali per ricostruire la rete dei rapporti culturali e personali ma anche per segnalare appunto la presenza di commenti e di postille, di commenti a margine e di annotazioni. Sarebbe opportuno poter fare una cosa del genere anche per le postille dei testi di Cavalcaselle. Le postille in generale per il loro carattere di espressione immediata, privata, informale si configurano come uno spazio per una più libera e disinvolta sperimentazione di soluzioni e di proposte. Questa dimensione del campo della connessorship riveste un'importanza particolare perché permette di seguire i percorsi mentali di un conoscitore, postille ovviamente in combinazione anche con altri materiali, nel caso specifico di Cavalcaselle, tacquini e appunti di lavoro. In un certo modo possiamo ricostruire, indagare i meccanismi della connessorship e questo è particolarmente importante al giorno d'oggi in un momento in cui come ricordava anche Neville Rowley nella sua introduzione di Giovedì, la connessorship è messa in discussione in quanto considerato un approccio autoritario, elitario asservito al mercato artistico. Come diceva già nel 1989 Rosalind Krauss «Authorship is dear to our history for within the value system of our discipline, authorship brings with it a host of privileges». E in questo contesto quindi così polemico anche a volte che è stato perlomeno negli anni passati così polemico nei confronti della connessorship, ricostruire filologicamente le modalità di questo esercizio di riconoscimento della authorship diventa essenziale. Le postille di Cavalcaselle ce ne danno ai cataloghi, ai cataloghi appunto di mostre, di collezioni, di vendite ce ne danno un'occasione e sono un caso particolare ma particolarmente eloquente e credo piuttosto raro. Io so solo delle postille ai testi di Morelli che conosco solo parzialmente, che anche la biblioteca di Morelli è suddivisa fra l'Accademia di Brera e la Biblioteca Civica di Bergamo e ci sono stati degli assaggi diciamo così negli anni passati, nell'87 in occasione del famoso convegno su Morelli di cui ho visto gli atti anche sul bancone all'entrata, appunto ci sono stati degli affondi sui cataloghi di Firenze e di Dresda del 1867, nel 2004 Marta Fumagalli ha lavorato sulle postille di Morelli al catalogo di John Charles Robinson della collezione di disegni di Malcolm, però appunto assaggi come dire abbastanza limitati. E la particolarità delle postille di Cavalcaselle che coprono tutta la gamma dai semplici notabili alle sottolineature e ad altre tracce di lettura che sono una sorta di postille mute fino a brani più descrittivi ed elaborati, la particolarità è che spesso si tratta appunto di postille figurate, cioè di schizzi sui margini, sulle camicie, sulle copertine, sui testi stessi come vedete anche in questo caso. Vi mostrerò degli esempi al riguardo ma vorrei notare anche e anticipo un po' la conclusione del mio intervento come riflettere sul fenomeno delle postille offre anche un'occasione per misurare i modi in cui nel corso dell'Ottocento, cioè in una fase di affermazione e di consolidamento della disciplina storico-artistica, gli spazi di riflessione privati si riversano in una dimensione pubblica e in questo senso musei e gallerie sembrano giocare in questo fenomeno un ruolo privilegiato, ma su questo punto vorrei arrivare poi in conclusione. Intanto vorrei presentarvi alcuni casi premettendo però delle avvertenze e illustrando anche alcune limitazioni di cui dobbiamo tener conto nell'affrontare le postille di Cavalcaselle. Innanzitutto ci troviamo di fronte a un campione, solo un campione parziale. Va fatto per la biblioteca lo stesso discorso che ha fatto nel bellissimo libro recente appena pubblicato su Cavalcaselle Giovane Giovanni Mazzaferro. Ha messo in evidenza, ha chiarito molto bene quanto sia lacunoso, specialmente per il periodo giovanile, il fondo di Venezia, frutto della donazione della vedova di Cavalcaselle nel 1910. E lo stesso possiamo dire anche del fondo di Joseph Archer Crowe, il collaboratore di Cavalcaselle che integra i due fonti, quello di Venezia e quello di Crowe a Londra, si integrano in maniera proprio perfetta perché lo scambio di materiali era costante. e lo stesso possiamo dire appunto di parzialità, possiamo parlare anche per la biblioteca. Anzi nel caso della biblioteca le lacune sono particolarmente clamorose, basta pensare che manca l'edizione, manca Vasari, in particolare l'edizione Le Mounier che anche prima dell'incarico che Cavalcaselle ricevette nel 1857 da parte proprio di Eastlake, di Lyard e di Murray per una nuova edizione vasariana, era comunque stato anche prima del 57 un punto di riferimento costante. I riferimenti al testo di Vasari sono molto precisi, bibliograficamente molto precisi anche nelle postille ai cataloghi dei musei di Berlino, di Londra e di Parigi che sono appunto degli anni antecedenti al 1857. E va aggiunto anche che la presenza tra l'altro di questi riferimenti bibliografici così puntuali ci porta anche ad aprire un attimo una parentesi perché chiaramente ci dice di una strumentalità del catalogo, del catalogo di museo, del catalogo di mostra che va al di là della immediata annotazione sul posto, evidentemente c'è anche i numeri di pagina, i volumi, quindi c'è un perfezionamento anche successivo di queste postille. Inoltre è probabile che anche Crowe avesse una fornita biblioteca di cui invece non c'è e in cui può essere confluita anche parte dei materiali bibliografici di Cavalcaselle perché lo scambio fra i due era continuo e la minuta italiana di Cavalcaselle e della History of Painting in North Italy ci testimonia con le sue comunicazioni di servizio diciamo premesse spesso ai vari fascicoli ci testimonia appunto di un passaggio continuo di materiali anche bibliografici tra Crowe e Cavalcaselle. Approfitto per utilità generale di segnalare appunto questo sito in cui ho inserito la trascrizione della minuta appunto della History of Painting in North Italy che non esiste in traduzione italiana e una minuta diciamo così che si discosta notevolmente perlomeno quanto a forma dal testo poi pubblicato in inglese e particolarmente interessante io credo anche per questioni di lessico artistico. Ma era semplicemente appunto visto che non è molto nota questa trascrizione credo che possa essere utile ho cercato anche di inserire una parziale indicizzazione per luoghi per artisti citati e anche per fonti sia fonti visive per dire rosini piuttosto che da gincure eccetera sia fonti testuali e fonti d'archivio. Ecco poi ci sono anche delle questioni puramente materiali che riguardano proprio i volumi stessi in parecchi casi e malauguratamente proprio per note che sembrano di particolare interesse la sommità superiore delle pagine risulta tagliata, risulta tagliata evidentemente per rilegature, rilegature ovviamente successive alla donazione, abbiamo anche la possibilità di individuare il colpevole, il legatore perché sono appunto segnalate con questa etichetta e a volte come dire anche invece delle etichette poste dal bibliotecario che deturpano e anche lì proprio in maniera strategica ci impediscono di leggere le prime alcune notizie o a volte appunto al centro di un disegno. Non si vuole dare la croce addosso a nessuno, era usuale, non c'era una sensibilità che probabilmente abbiamo acquisito al giorno d'oggi, non credo che nessun bibliotecario oggi fadrebbe un'operazione di questo genere. Poi ci sono ovviamente anche specialmente in quelli che possono essere considerati i primi cataloghi annotati, quelli degli anni 50, ci sono anche problemi ovviamente di uso di un inchiostro molto acido che si è espanso e spesso ha intaccato il supporto corrodendolo e quindi rendendo difficile, a volte quasi impossibile la lettura, ma anche la presenza e non so se si vedono, non so cosa si veda appunto in questo caso, la presenza di labilissimi segni a matita, forse se riesco, ecco in questo caso forse da quelle deboli tracce, si tratta però di un disegno che si riferisce a quest'opera. Molte annotazioni a matita oggi sono quasi del tutto svanite. E poi c'è una questione di cronologia, se è sempre possibile avere un termine post-quem che è dato quando è noto dalla data di pubblicazione del catalogo, però a volte ci aiuta per esempio la presenza di note di Cavalcaselle, per dire sul catalogo di George Sharf della collezione di Blenheim Palace del 1860 troviamo però la firma di Cavalcaselle e la data 1865, cioè l'epoca del viaggio in Gran Bretagna, oppure di uno dei tanti viaggi in Gran Bretagna, oppure nel catalogo di Brescia della Pinacoteca Tosio mi pare annota, che è del 63, annota ottobre 68, quindi in qualche maniera, qualche volta ci riusciamo a collocare meglio da un punto di vista cronologico, ma certamente c'è il problema poi dell'uso di questi cataloghi come palinsesti, per cui le note vengono riprese in tempi successivi, vengono affinate, vengono cambiate, come vedremo fra poco. Un caso particolarmente interessante, secondo me, ve la volevo far vedere, è quello del catalogo della collezione del Dalich College a Londra, che non è datato. Nella meritorio inventariazione del fondo, forse del fondo di manoscritti, sia della biblioteca di Cavalcaselle, è fatto diversi anni fa da Susie Marcon, il catalogo è datato senza data, anzi mi pare. Altre coppie di questo stesso catalogo, anche nel catalogo della British Library, sono datati tra il 50 e il 60, questa coppia di Cavalcaselle non ha fra i punti vendita il negozio di Francis Graham Moore, che sappiamo cessare le attività nel 1953, intraprendere poi una carriera politica, quindi sarà post, presumo che sia post 1953, quindi ancora in tempo, diciamo così, perché la visita di Cavalcaselle possa essere datata prima del ritorno in Italia, cioè prima del 1957. Tuttavia, nella camicia posteriore, e anche qui non so quello che si riuscirà a vedere dalla diapositiva, vediamo delle cifre che sono banalmente degli orari ferroviari e quindi si potrebbe pensare che sia dopo il 1862, perlomeno questa è una notizia che ho trovato su Wikipedia e nel 1862 che viene inaugurata la stazione di West Dulwich su una linea ferroviaria che era la Chatham Main Line. Dalle postille, perché poi andando alle postille, questa potrebbe anche essere la testimonianza di una seconda visita, non è dirimente, guardando alle postille sembra effettivamente che siano il frutto di un'unica visita, sono molto omogenee fra loro, la stessa matita, etc. Perché mi soffermo su una cosa che direte così stupida? Perché in effetti può essere importante, almeno penso sia importante, capire effettivamente la datazione, perché se fosse 1865, appunto il soggiorno di Cavalcaselle a Londra potrebbe essere ancora più interessante. Certamente la collezione Dalic guarda soprattutto i materiali, sono tutti, non tutti, ma in gran parte una collezione di dipinti dal Cinquecento in poi, quindi certamente un ambito in cui si presumeva che Cavalcaselle non avesse particolare interesse per questo tipo di dipinti. Mazzaferro ha dimostrato appunto invece che negli anni Cinquanta questo interesse di Cavalcaselle, a partire dal cataloghi di Madrid, eccetera, esisteva ed esisteva anche una sua competenza notevole. Ora sarebbe interessante che io credo che questo interesse appunto per la pittura, chiamiamola così, post-rinascimentale potesse essere attestato anche in un momento in cui Cavalcaselle è concentrato sulla preparazione del terzo volume della History of Painting in Italy e sulla preparazione dei volumi successivi che sono quelli sulla pittura settentrionale, quindi proprio orientato, focalizzato sulla pittura, sulla produzione artistica fino all'inizio del Cinquecento. Quindi sarebbe un'ulteriore riprova di un interesse particolarmente forte, non solo di un interesse particolarmente forte, ma anche di una competenza notevole. Perché queste, ho messo 4-5 casi così un po' presi, quasi presi a caso, vediamo che Cavalcaselle è molto preciso nelle sue attribuzioni, attribuzioni che oggi troviamo, le attribuzioni del catalogo le mette in dubbio e sono le attribuzioni che vengono accettate ancora oggi. Per esempio il Poussin, mi pare scuola di Poussin e via dicendo. E' anche curiosa questo Nanetti che appone accanto a un dipinto che io credo venga attribuito a Lebrun solo per un refuso. Comunque Nanetti, nel catalogo questo è Lebrun, i musicisti. Nanetti, ora sappiamo che questa è la famiglia, cioè i fratelli Lenin che suonano, che esercitano, che si esercitano nell'arte musicale e il dipinto è attribuito a Mathieu Lenin. Io non so, appunto, questo Nanetti, che sarebbe la traduzione dei Lenin, mi sembra abbastanza indicativo. Quindi una conoscenza particolarmente approfondita, appunto, che è poi attestata anche da altre testimonianze, perché troviamo numero in altri cataloghi, per esempio troviamo, appunto, molti cannaletto che diventano guardi, attribuzione che è accettata ancora oggi. Quindi effettivamente una competenza anche su un campo che non gli era attribuita. Ma torniamo alla biblioteca. Ecco, per quanto parziale può essere considerata comunque un campione significativo. Partendo dalla classificazione tipologica, appunto, del fondo, ma avvertendo anche che nella sezione manoscritti esiste una gran quantità di libri, opuscoli, eccetera, anch'essi annotati. Ecco, partendo comunque da questa classificazione tipologica, e vediamo che le postille, diciamo così, si concentrano in queste tre categorie, appunto, musei e gallerie, collezioni private ed esposizioni. Raccolte ed esposizioni che evidentemente sono spazi che si prestano a confronti, perché sono postillati, per esempio le guide non sono postillate in maniera così sistematica, sono molto più rade le postille alle guide. Le postille si concentrano, appunto, su queste tipologie di materiali. E chiaramente mostre, esposizioni, cioè musei, esposizioni, collezioni private, si prestano a confronti. Sono palestre ideali di un esercizio visivo che segna lo sviluppo della disciplina storico-artistica nell'Ottocento. In un articolo di Théophile Théoré del 1866, di fronte alla difficoltà di far intendere la fisionomia, il percorso, anche il valore di un artista come Vermeer, Théoré aveva scritto «Si l'était possible de réunir dans une exposition publique tous ces tableaux». Cioè, se fosse possibile riunire in un'esposizione unica tutti i quadri di Vermeer, allora il suo valore verrebbe fuori con evidenza. Cioè, il conoscitore aveva bisogno di vedere e riunite quante più opere possibili. Di lì a poco la fotografia avrebbe cambiato un po', diciamo così, il panorama complessivo. Quindi i cataloghi per la varietà di materiali che offrono diventano anch'essi uno spazio privilegiato di apprendimento, di successiva verifica, ma anche luogo di confronto con la tradizione e di un dialogo a distanza con gli altri conoscitori. Un dialogo, un confronto con Wagen, ad esempio, questa è una pagina del catalogo del 1851 di Berlino. Visualizzo un po' questa pagina che qui forse non è assolutamente comprensibile o leggibile. Qui vediamo in queste postille, per esempio, che per la Madonna e Santi e Donatore vi è attribuita a Vincenzo Catena da Wagen, vi è all'inizio un minimo dubbio, vi è anche seguito da un'ipotesi previtali, poi rigettata, e quindi nel 1863, invece, in questo caso siamo fortunati, uno dei rari casi in cui la postille è datata, un sì di accettazione della tribuzione di Wagen. Invece, per il tritico di San Cristoforo, che fu distrutto nel 1945, quando era considerato Giovanni Bellini, l'attribuzione di Wagen a Marco Basaiti è messa in dubbio e ci si orienta verso un ambito bergamasco. Più precisamente, a proposito della Giuditta, che per Wagen era Andrea Mantegna, l'attribuzione di Cavalcaselle su una perentoria e ghirlandaio. Il catalogo è anche una palestra di confronti che permettono accostamenti di autori che comparivano con nomi diversi, oppure di ricomposizione, anche questo è molto frequente, di parti di dipinti, di predelle che vengono riacorpate alle tavole principali, di pinnacoli che vengono ricostruiti, eccetera. Un caso è quello di Lorenzetti, dove possiamo considerare alcune opere attribuite sempre nel catalogo di Berlino appunto a Pietro Lorenzetti. Si tratta della Madonna in trono, ora attribuita a Jacopo di Casentino, numero 1091, delle storie della vita di Cristo, numero 1092, ora attribuito al maestro di San Martino alla Palma. Cavalcaselle mette in dubbio Pietro Lorenzetti, ci scrive appunto un punto di domanda e poi nel margine superiore della pagina aggiunge qualche diversità il 1091 dal 1092. Il 1092 è più bello, cioè quello che ora è il maestro di San Martino alla Palma è più bello, non importa il più bello, comunque distingue appunto i due artisti. E poi aggiunge 1091, scuola come 1096, che è un altro dipinto appunto che era nel catalogo e attribuito alla scuola senese genericamente, Sciule Fonsiena, e che oggi anch'esso è attribuito a Jacopo di Casentino. Quindi ricomposizione, distinzione, anche se Cavalcaselle non è in grado di fare un'attribuzione sicura. avverte analogie e differenze, ma per esempio nella New History of Painting si limiterà a notare che il 1091, il 1092 e aggiunge anche il 1093, che sono poi gli sportelli laterali del 1091, sono not in the spirit of Pietro's works. Un caso abbastanza simile riguarda Pinturicchio, potremmo chiamarlo il caso Pinturicchio-Soggi, perché è un analogo caso di ricomposizione. Qui ci troviamo di fronte a due opere date da Wagen a Pinturicchio, come vedete, la 142 e la 149, con storie di Tobia che vengono accorpate con quelle che nel catalogo di Wagen del 1851 sono le storie di Santa Felicita, in realtà le storie di Santa Lucia, che erano attribuite invece a scuola di Pinturicchio. E' interessante che mentre individuo una stessa mano per tutte queste tre opere, oggi riconosciute come di mano di Nicolò Soggi, Cavalcaselle rilevi per tutte una componente toscana e non solo umbra. Quindi scuola che sente anche della Toscana, anzi credo un toscano, e avanza il nome poi cancellato di Piero Di Cosimo, e scuola che sente del Toscano per il numero 142. Analogo discorso, ma non voglio magari stare, come dire, non voglio attardarmi troppo, per il discorso Ghirlandaio-Sebastiano Mainardi. Anche qui possiamo, come dire, vi lascio un attimo la diapositiva, ma non voglio, come dire, non so se sono in ritardo, non ho un'idea. E quindi, come dire, abbiamo appunto, come dire, queste postile che tra l'altro permettono anche di seguire anche le varie approssimazioni, i progressivi aggiustamenti, i dubbi. Un caso è quello dell'annunciazione di Cossa, nella Galleria di Dresda, che era considerata di antica scuola fiorentina, forse Alessio Baldovinetti, le postille ci restituiscono le varie impressioni. Prima Rosselli, Cosimo Rosselli, misurato sui dipinti dell'autore presenti al Louvre, poi, dice, dopo aver veduto Berlino propone indagini nella scuola toscana, infine annota Costa con un punto di domanda, che comunque denota un avvicinamento che sarà ancora più accentuato nella descrizione, nella definizione che darà di questa pittura nella New History of Painting in Italy. Soprattutto, in molti casi, in maniera più eloquente, le postille ci dicono del modo di ragionare di Cavalcaselle, del modo anche in cui guarda un dipinto. Già alcuni casi li ha presentati Giovanni Mazzaferro nel suo libro, che tra l'altro ha opportunamente sottolineato la totale indispensabile integrazione tra disegni, tra postille, adottazioni sui libri e altri materiali, tacquini e fogli sciolti. Ecco, nel catalogo di V.O., il famoso catalogo del 1849, quello che sarà oggetto, l'anno dopo, delle critiche di Otto Mündler nel suo Essay in Analyse Critique, vediamo appunto una lettura estremamente precisa, sia visiva, come vedete dai dettagli in basso, sia con le parole, del modo di stendere i colori da parte, in questo caso, di Taddeo di Bartolo. Non sto a leggere tutta, però vi rendete conto appunto immediatamente dell'attenzione con cui sottolinea proprio il modo, il modo di lavorare dell'artista, tutto questo abito della Madonna è una tinta verdone senza diversità e poi le forme date a tratti larghi con l'oro, carne, terra, terra verde sotto, rossetto nelle mezze tinte e trattini sopra e via dicendo. È significativo che nella recensione, nel volume recensione di Mündler, per esempio, per questo dipinto si parli solamente, si correga solo la segnatura che è data erronea da V.O. e la stessa cosa anche qui possiamo vedere per questo dipinto del Gozzoli, il trionfo di Sant'Omaso d'Aquino, dove ugualmente troviamo lo stesso andamento, così nell'abito rosso si è servito per lumi del fondo bianco ed apposte le mezze tinte con lacca a tratti e più forte nelle ombre, eccetera. In questo caso non abbiamo l'aiuto dell'appunto grafico come avevamo in precedenza, ma ugualmente appunto un'analisi estremamente puntuale del procedimento usato dall'artista. E anche qui il confronto con l'essai di l'analyse critique di Mündler ci dice che il quadro è citato, ma solo per una questione relativa al ritratto di Sisto IV. Vanno fatte ovviamente, quindi queste sono un po' molto ampio il range, i tipi di postille e di cavalcaselle, e vanno fatte però ovviamente delle distinzioni perché è possibile riscontrare una diversità di intenti, perché alcuni cataloghi degli anni 50, fittamente annotati, come quello di Dresda, come quello di Berlino, come quello di Madrid o questo di Parigi, certamente tradiscono la volontà di impadronirsi di nuovi oggetti di studio, quasi un'esigenza di raccogliere più documentazione possibili anche a fini di apprendimento. Ma altrettanto importante è specialmente nei cataloghi più tardi poter verificare, poter inquadrare il costante lavoro di verifica operato successivamente o sugli stessi cataloghi, come dicevo prima, o anche in edizioni, in cataloghi successivi. Un caso particolare è quello della National Gallery di Londra, dove per esempio Cavalcaselle è sicuramente al di là del catalogo del 1852, su cui non mi soffermo perché anche lì è stato trattato molto ampiamente da Mazzaferro, ma è interessante anche vedere cosa succede dopo. Nel catalogo di Londra, per esempio di Warnham del 1869, troviamo pochissime, qualche correzioni, è un appunto, però credo sia un appunto un po' significativo, perché è un no posto all'attribuzione a Filippo Lippi di questa Madonna con Angeli e Santi, ora attribuita ai Santi, ovviamente sono nei laterali, queste sono la Madonna, a Zanobi Machiavelli, che come tale, come Zanobi Machiavelli era già stato segnalato da Croix Cavalcaselle nella New History of Painting del 64 e anzi i due avevano aggiunto appunto questa annotazione sul fatto che sarebbe giusto, che è giusto non cambiare i nomi degli artisti così in maniera affrettata nei cataloghi, che però in questo caso forse il cambiamento andrebbe effettivamente fatto. Quindi quasi una sorta, cioè uno potrebbe leggere questo no anche con una sorta di rammarico e invece nel catalogo pubblicato sempre da Worm l'anno successivo segnano invece, semplicemente a lato, segnano la voce relativa al Battesimo di Cristo, già a collezione Lombardi Baldi, ce l'ha fatto vedere giovedì Gabriele Fattorini, un dipinto che al tempo era sormontato appunto dai tre pinacoli che Croix Cavalcaselle già nel 64 avevano attribuito a Giovanni da Milano, anche in questo caso il catalogo del 1870 della National Gallery recitava mi pare non più Taddeo Gatti ma Scuola di Taddeo Gatti, comunque tutti insieme, senza distinguere tra Niccolò di Pietro Gerini e Giovanni da Milano. Ma è particolarmente importante il catalogo del 1882, quindi una visita molto tarda di Cavalcaselle in Inghilterra, perché è un catalogo che registra anche opere che non esistevano, che non erano presenti nel catalogo ma erano state acquistate proprio tra il 1881 e il 1882, fra cui appunto alcuni dipinti comprati alla vendita della famosa collezione Hamilton. Hamilton. Quindi un'occasione per Cavalcaselle di osservare con calma le opere di una collezione privata che aveva già visitato nel 1865, come documentato da alcuni fogli di quell'anno, ma forse in condizioni non ottimali, dato che alcune opere in quel fascicolo non sono ricordate. Wagen l'aveva vista anche lui, questa collezione l'aveva visitata, la descrive in Treasures e forse con una migliore accoglienza da parte del duca e della duchessa che è appunto di cui, cioè Wagen si profonde in lodi nei confronti di questa accoglienza. Cavalcaselle evidentemente, la visita di Cavalcaselle fu più affrettata. Comunque anche qui rapidamente le prime e le ultime pagine del catalogo presentano appunto annotazioni, schemi, eccetera, su varie opere, su varie opere appunto di Hamilton, ma non solo di Hamilton. Per esempio in questo caso c'è questo schema, si vede lo schema della crocifissione dell'alunno che era stato acquistato nel 1881, che veniva probabilmente dall'Aquila. Io leggo Ascoli nella notazione di Cavalcaselle, ma potrebbe essere che si sia confuso. Comprata appunto, venduto tramite Alessandro Castellani di Roma alla National Gallery nel 1881. Troviamo poi per esempio nelle ultime pagine anche questo Signorelli dalla collezione Mancini, anche qui è svista di Cavalcaselle che scrive Città della Pieve mentre è Città di Castello. Oppure ancora, come vediamo qui appunto, la tavola di Giovanni Martini, allora considerata ancora di pellegrino, che era acquistata, che stava, la voce stava anche in catalogo, ma la riprende qui, era stata acquistata nel 1867 a Venezia dal pittore, restauratore e disegnatore Vincenzo Azzola. Quindi integrazioni appunto di opere che evidentemente erano già in mostra, ma non erano rientrate nel catalogo del 1882. Ma anche all'interno del catalogo troviamo delle integrazioni e a volte delle integrazioni che sembrano quasi sfuggire. Sotto la voce Filippino Lippi vediamo questa specie di rettangolino con su scritto di Razione dei Magi Hamilton 1124. Ed è appunto, anche questo è un quadro che viene dalla collezione Hamilton, sembrerebbe un'annotazione così, in effetti se andiamo un po' a scavare all'interno del fondo di Cavalcaselle, vediamo che troviamo un riscontro in questo disegno, ugualmente schematico ma molto preciso nelle annotazioni, che si trova appunto nel fascicolo Hamilton 1865. Ed è un caso particolarmente interessante perché il disegno testimonia un esame accurato con un confronto molto pertinente con le tavolette della collezione Torrigiani, cioè sarebbero le storie di Esther, di Filippino Lippi oggi disperse tra vari musei. Un dipinto non inserito nel secondo volume della New History of Painting, perché era già pronto nel 64 e quindi non rientra in questo volume, ma che è particolarmente interessante appunto io credo per queste annotazioni. Sempre dubbio fra Botticelli e Filippino, di quei quadri che sentano di Fra Filippo e del Botticelli. E poi alla fine questa telegrafica annotazione, detto Botticelli, sottinteso nel catalogo Hamilton, Wagen, di nuovo sottinteso, lo dice Fra Filippo, come appunto in Treasures, ed io Filippino. Quindi anche diciamo così questa progressione, però i cataloghi sono uno strumento di continuo aggiornamento e probabilmente di verifica in vista della pubblicazione dell'edizione italiana. Però c'è anche un altro dato che ci dicono un po' queste postille, io credo. Si tratta in gran parte, l'abbiamo visto prima, di quadri che erano usciti dall'Italia dopo l'unità. Si tratta di quadri che escono fino agli anni 70 e inizio anni 80. Ci si può chiedere che cosa Cavalcaselli, funzionario ormai dello Stato italiano, potesse non c'è nessuna notazione su questo fatto, sul fatto che questi dipinti in qualche maniera fossero usciti, fossero stati tolti al patrimonio artistico italiano. Una sola notazione, ma appunto potrebbe segnalare, ed è quella riferita appunto a questa porzione di affresco dal tabernacolo Carnesecchi, in cui Cavalcaselli scrive semplicemente veduto a Firenze. Ma era un dipinto che era uscito prima, era uscito nel 1859 ed era stato appunto acquistato da Charles Locke Eastlake. Ecco, quindi certamente i cataloghi sono strumento di aggiornamento, di verifica, di verifiche successive, succede anche per i dipinti, per esempio, che arrivano all'ouvre dalla collezione campana e che Cavalcaselli rivede all'ouvre e segnala nel catalogo dell'ouvre successivo, il catalogo di Raiset, ma che rimandano poi alle postille che aveva posto sul catalogo campana nel 1859, perché aveva visto la collezione proprio per conto di Eastlake in quell'anno. Quindi, come dire, è un gioco, è una mappa abbastanza complicata. Ho cercato di mostrare un po' la pluralità di registri e di funzioni delle postille, ma possiamo chiederci, esiste un genere postille? Io sarei incline a dire di no, nel senso che sono una delle modalità di una scrittura privata, quindi potenzialmente più libera, più libera nelle espressioni, anche di una scrittura privata che può essere anche incline ad assumere toni di aperta contestazione, anche se in Cavalcaselli manca qualsiasi tipo di invettiva nei confronti. C'è solo un pazzo, un pazzo che viene attribuito all'autore, al giudizio anzi, che l'autore del catalogo della Pinnacoteca di Ferrara fa sulla visitazione di Domenico Panetti. Dice, quadro che non invidia ad uno dei più belli di Peruginio. Ecco lì Cavalcaselli scrive pazzo. Qualche volta scrive orrore, ma è più per il distacco del nome proposto, per esempio mi pare che scriva una cosa attribuita a Giotto e che invece adesso è di scuola romagnola dall'inizio del 300, quando ci sono proprio degli svarioni terribili, ma in generale è molto misurato. Quello che volevo dire però è che mi sembra un dato di fatto che proprio in questo periodo del secondo 800, e qui arrivo alla conclusione, la Costilla deborda dalla sua sfera privata. Ed è un po' la stessa vicenda che mi fa di poter ricostruire per quanto riguarda i tacchini di viaggio. Quando negli anni 30 Passavan prima pubblica la sua Kunstreise e nel 35 e Wagen, i Kunstwerke und Künstler, che preludono poi alla successiva edizione inglese tra il 1837 e il 1839, ci fu chi criticò questi studiosi perché? Accusandoli di aver svuotato sulla testa del pubblico, usano proprio questa espressione, l'ammasso in forme delle loro note di lavoro. Ma in effetti il famoso, e se di non all'inscritica abbiamo citato prima, il volume appunto recensione di Mindler al catalogo del 1840 di V.O., che cos'è se non la messa in pubblico di una serie di sferzanti postille? Anche da un punto di vista tipografico proprio, in piccolo viene riportato il testo di V.O. e poi appunto la rimostranza invece di Mindler. E allora io credo che dovremmo anche farci delle domande sulle ragioni di pubblicizzazione di questa modalità di scrittura privata in una fase in cui la disciplina, come si è detto, si stava assestando. E dovremmo farci anche delle domande su come in questi anni stia cambiando il ruolo stesso della connessership. In quanto analisi visiva e materiale era rimasta un po', fin dai primissimi anni dell'Ottocento, che è un po' dietro le quinte del discorso ufficiale. Io faccio sempre l'esempio con il caso di Luigi Lanzi, accuratissimo annotatore nei suoi tacchini di viaggio, delle caratteristiche peculiari di ciascun artista. E poi queste note, quando si mette a scrivere la sua storia pittorica, di queste note non solo fa un uso più che parsimonioso, anzi l'ave fatto, ma lascia trasparire solo assai saltuariamente le sue competenze di conoscitore. Invece dalla metà dell'Ottocento in poi, anche in questa congiuntura tra politica museale ed esigenze di mercato, le specifiche qualità di analisi visiva diventano elemento essenziale e connotante la specificità di una disciplina che si avviava prima in Germania e poi in Francia e più tardi in Italia a diventare disciplina universitaria, ad acquisire uno statuto diverso. Musei e gallerie, comprese le esposizioni temporanee che via via in questi anni si intensificano e che vedono Cavalcaselle come visitatore attento, ma anche alcune vendite importanti, si dimostrano delle vere e proprie palestre per gli esercizi attributivi in cui cresce e si affina la pratica della connessorship. Disse Roberto Longhi nel 1954 in un breve articolo intitolato per una storia dei conoscitori, la connessorship è vecchia quanto il tempo e aveva perfettamente ragione, ma è altrettanto vero che a metà Ottocento questa pratica, prima maggiormente confinata nella sfera privata o nelle pratiche di mercato, comincia a essere apertamente esibita e soprattutto a informare il discorso storico-artistico anche nei suoi livelli, diciamo così, nei suoi registri più alti, quella biografia o la storia. E non è un caso che a fianco del, o in continuità con l'essere di l'analyse critique di Münder, io credo che un altro esempio, ma sono molto timida in questo perché è presente Carlo Ginzburg, un altro caso sono gli articoli di Morelli pubblicati tra il 74 e il 76 nella Zeitstreet für Bildende Kunst, che propongono una sorta di messa in scena delle postille, ibridando la descrizione della visita a una galleria reale con il genere o dimensione della postilla, postilla alle indicazioni delle pitture, che è un testo pubblicato e ripubblicato poi a partire dagli anni 40 sulla collezione borghese, ma anche una postille ai cartellini, soprattutto ai cartellini posti sui quadri. Nell'ambito della vastissima bibliografia su Giovanni Morelli, questi articoli secondo me sono stati un po' trascurati, nel senso che sia in Italia che nel mondo anglosassone si preferisce leggere le edizioni successive, pubblicate appunto i Kunstkritische Studien, pubblicati in tedesco nel 1890, che poi nello stesso anno tradotti in italiano e nel 93 tradotti in inglese. Ci sono però da un confronto puntuale, si vedono tantissime cose che vanno perse in questo passaggio. Si perde per esempio proprio quel sapore di ricognizione vera e propria della galleria, che negli articoli degli anni 70 era continuamente sostenuto dalla narrazione proprio degli spostamenti di Morelli all'interno della galleria. Un altamento topografico molto accentuato, con corsi in avanti, ritorni indietro, eccetera, proprio come dire, un'attentissima affineggiatura da questo punto di vista, comprese anche notazioni sulla collocazione dei dipinti e sulla loro visibilità, dipinti che si potevano vedere meglio, dipinti che erano appesi troppo in alto, eccetera. E va perso anche, io credo, qui nel passaggio dagli articoli del 74-76 alla riproposta successiva nei Kunstkritische Studien, va perso anche un atteggiamento decisamente più conciliante che Morelli dimostra nei confronti di Crowe e di Cavalcaselle, per esempio non tanto di Wagen o di Mindler, ma soprattutto nel caso di questi due studiosi tutto sembra rientrare più in un confronto, in una dialettica scientifica di possibili disaccordi, ma di Crowe e Cavalcaselle vengono segnalate anche in molti casi consonanze di vedute. In conclusione le postille aprono uno spiraglio, uno spiraglio per sbirciare nelle officine dei conoscitori e naturalmente per inquadrare meglio i meccanismi della connessorship o perlomeno per mettere a fuoco una sorta di quella che chiamerei anatomia dello sguardo, i modi in cui lo sguardo viene tradotto anche, che è un punto nodale, sfuggente, con mille implicazioni e sfaccettature. Cosa guardano i conoscitori? Su quali elementi o caratteristiche si focalizza l'occhio del conoscitore? Come si traduce lo sguardo sulla carta? Come si traduce con il disegno, con l'espressione grafica? E quando l'espressione grafica abbia comunque bisogno di un'integrazione testuale? Quindi questo delicato passaggio dall'occhio dell'osservatore alla resa, diciamo così. E anche nel momento appunto in cui la connessorship assume un ruolo più esplicito nella storiografia ufficiale, chiamiamola così, quali strategie retoriche sono adottate per comunicare in maniera convincente un'esperienza visiva a un pubblico più ampio? Anche come l'integrazione della connessorship nella storia dell'arte cambia i generi tradizionali? Quali sono le forme più adatte per comunicare i risultati scientifici dei conoscitori? Articoli, brevi saggi, non è un caso che Müller scriva poco, tutto sommato scriva soprattutto note, note puntuali, eccetera. Quindi queste sono un po', diciamo così, le domande che si pongono appunto esaminando alcune delle domande, ce ne sarebbero tante altre, che si pongono esaminando le postille di Cavalcaselle per le quali, ribadisco, sarebbe necessario probabilmente appunto un lavoro sistematico, un lavoro di equip, un lavoro appunto a più mani, un lavoro veramente di… anche perché ovviamente, come direi, gli interessi di Cavalcaselle sono estremamente ampli e occupano, da un punto di vista cronologico, anche una cronologia molto vasta. Credo di aver parlato troppo, mi scuso per questa… per la mia lunghezza che in effetti è stata… Grazie. Grazie.